Ciao oggi voglio parlarti di 5 modi professionali per fare soldi online Soldi online si possono fare, si possono fare in maniera professionale però bisogna anche capire il concetto del fare soldi online cioè in questi video cercheremo di capire più nello specifico come funziona realmente la domanda che mi viene fatta più spesso si Marco ok io vorrei guadagnare online, vorrei intraprendere questa professione ma non so da dove partire, non so come cominciare e innanzitutto partiremo dal dire che le truffe esistono tu puoi anche diventare bravo a fare marketing online e dedicarti alle truffe questo è un problema etico tuo o non mio mi fa cagare però vabbè sono scelte tue però di base dobbiamo cercare di capire che il 99% delle cose che si vengono che vengono proposte online comunque non è una truffa quindi se stai pensando eh sì sono le solite cagate mi spiace dirti eh contraddirti anzi forse per fortuna ti contraddirò perché ti farò vedere nello specifico quali sono i reali modi di monetizzare online tutto è vendibile oggi online perché online è il mondo virtuale che noi ci siamo creati parallelamente noi umani ce lo siamo creati parallelamente per andare a eh renderci la vita più comoda quindi tutto quello che può essere fatto offline la maggior parte dei casi può essere riportato online quindi ehm tutto quello che veniva venduto una volta offline può essere venduto online quindi ci sarà sempre di più nel futuro bisogno di persone che sanno che padroneggiano appunto gli strumenti per fare questo tipo di business ehm quello che io faccio nella mia professione il mio metodo è semplicemente quello di scovare i trend e i desideri di mercato che hanno le persone quindi i problemi che vorrebbero risolvere e eh trasformare dei prodotti in soluzioni quindi eh cercare di monetizzarli per farlo eh il mio metodo funziona appunto in cinque modi principali che ti farò vedere oggi nello specifico attenzione quello che io eh dico in questi video non è molto sentito nei video di marketing sul web ehm per due motivi il primo specialmente perché le persone cercano e si fossilizzano sempre su un determinato canale quindi ho un determinato tassello quindi voglio fare e-commerce, dropshipping, affiliate marketing voglio vendere videocorsi eccetera eccetera e quindi cosa fanno? si creano il sito e poi dopo magari cercano qualche prodotto da mettere oppure dicono ok voglio fare corsi di yoga ok e si mettono lì e creano il corso di yoga online eccetera eccetera però quello che manca realmente è un qualcosa che ti spieghi ok sì un discorso sono le piattaforme di distribuzione quella che può essere Facebook, quella che può essere un e-commerce quello che può essere Instagram quello che può essere un network di affilazione eccetera quelle sono piattaforme di base però tu devi capire come funziona il desiderio di mercato e come poi qual è il modo migliore anche più affine ai tuoi investimenti al tuo modo di lavorare per distribuire questo prodotto ok quindi dobbiamo fare chiarezza in questo video ti mostrerò i miei 5 metodi che non sono miei in realtà ma sono i 5 metodi su cui si basa il mio metodo di lavoro e per cui io decido come andare a distribuire un prodotto di base io distribuisco in quasi tutti i modi che ti mostrerò oggi chi più chi meno dipende un po' che tipo di prodotto o servizio sto cercando di distribuire quindi te lo farò vedere con il mio fantastico super libro delle idee io amo pasticciare con penne e pennarelli tutto colorato perché mi fa capire meglio cosa sto facendo allora di base partenza proprio assoluta la prima cosa che tu devi avere è assolutamente una big idea se hai fatto il mio corso appunto ononimo big idea sai di cosa sto parlando la big idea cos'è? la big idea è l'offerta che tu vai a mostrare al tuo potenziale cliente la tua nicchia creata sotto forma di soluzione a un desiderio di mercato senza di questo è inutile cominciare a parlare di come distribuire ecco perché tante persone sbagliano cominciando a dire eh voglio vendere su facebook eh sì però di base ti manca tutta la cronostoria dietro per fare questo tipo di lavoro quindi una volta che avevi creato la tua big idea andiamo a elencare quelli che sono appunto i 5 metodi di distribuzione principali il primo in assoluto è la classica rivendita la rivendita cos'è? semplicemente tu compri il tu compri ok vai da un rivenditore a un grossista cosa fai? compri e poi ti occupi di distribuire l'offerta sulle piattaforme ok con un'offerta che ha sicuramente un ricarico e poi consegni e fai il delivery una volta che hai venduto quindi qui in questo caso i soldi li prendi tu e però hai anticipato ovviamente comprando questo è il metodo più classico immaginati proprio il classico negozio dove io ho individuato degli oggetti che voglio vendere vado dal grossista li compro in anticipo e poi li metto in distribuisco sui miei scaffali e li vendo e li consegno io quindi i soldi io li investo io li incasso questo è il primo metodo la rivendita mi piace o non mi piace? non mi piace per niente la rivendita perché non hai il controllo della filiera perché immaginati che tu stai andando a comprare il brand di qualcun altro e lo stai andando a rivendere come lo fai tu lo fanno molti altri quindi è molto facile associare questo a un discorso di prezzo lo vado a cercare dove costa meno quindi io lo boccio lo cazzo però comunque è sicuramente un metodo molto usato anzi fino ad oggi la rivendita è stata usata tantissimo immaginati tutti i negozi che vedi in strada fanno rivendita il panettiere che non fa il pane fa rivendita pane ok? secondo metodo è il che ci aggancio qua vicino private label ok? il private label è semplicemente lo stesso concetto della rivendita ma a marchio tuo quindi in sostanza sì tu compri tu distribuisci sulla piattaforma e tu consegni fai la stessa cosa anche tu ok? anche tu però a marchio tuo cioè tu in sostanza vai a mettere sullo stesso prodotto un marchio differente quindi immaginiamo la classica situazione in cui io vendo una bottiglia di vino ok? prendiamo una bottiglia di vino e vendo un vino noto diciamo un barbera conosciuto e cosa faccio? lo vado a comprare e lo rivendo ok? quindi a marchio di qualcun altro cosa è diverso e cosa faccio? prendo lo stesso tipo di barbera magari da un altro fornitore vado a cercare un fornitore e invece lo vado a vendere a nome mio cosa cambia fra le due cose? che il cliente tra le due sicuramente su questo prodotto qui può fare una comparazione di prezzo su questo prodotto qui no quindi in realtà il private label è il modo migliore che io consiglio in assoluto per cercare di monetizzare eliminando alla fonte il problema del prezzo quindi in realtà è molto più difficile andare a fare le pulci su un prodotto in private label quindi quando è possibile sempre cercare di farselo o farselo fare a nome proprio il private label per me è la cosa migliore anche per dire un infoprodotto è di base fatto in private label cioè i miei corsi sono in private label io li prendo e li costruisco da zero li vendo solo io quindi ho il controllo completo di tutta la filiera di lancio e di vendita anche in questo caso anticipo i soldi e anche qui anticipi i soldi e incassi i soldi quando vai a fare la consegna stesso metodo stesso modo superanti solo che in realtà qui il prodotto è marchiato quindi tu puoi costruire un'offerta migliore sicuramente un'offerta differente terzo metodo che andiamo a vedere in questo momento è il dropshipping ne avrai sentito tanto parlare in questo caso te lo spiego bene qui cos'è l'errore grosso che ti dicevo prima è che le persone dicono voglio fare dropshipping oppure vanno a comprare un corso di dropshipping sì ok perfetto va bene ma qua ci devi arrivare dopo prima devi avere la tua idea ok posizionata su un disegno di mercato quindi già offertata già col pricing e tutto e in questa serie di video ti farò vedere nello specifico come si fanno queste cose poi dopo che hai tutto sotto controllo quindi questi 5 passaggi che ti vado a far vedere decidi come distribuire qual è il tuo metodo di distribuzione migliore in base al tuo budget il tuo rivenditore dove si trova fisicamente il luogo del tuo cliente ok quindi in base a questi dettagli tu vai a scegliere su quale piattaforma lavorare il dropshipping in sostanza cosa fa tu non compri il prodotto ma lo vai a trovare da un distributore quindi lo intercetti lo metti sul mercato e quindi cerchi lo metti sulla tua piattaforma di distribuzione che potrebbe essere in questo caso un e-commerce col dropshipping si usa tantissimo Shopify che è un software che ti consente di creare un e-commerce in maniera molto semplice ed è molto utilizzata molto in via di sviluppo poiché le persone creano un sacco di plugin compatibili quindi in realtà è la piattaforma più grossa Shopify per distribuire prodotti in dropshipping il dropshipping in sostanza cosa fa tu trovi un prodotto servizio da un fornitore lo vai a distribuire sulla tua tua piattaforma ma cosa succede lo vendi ok quindi incassi direttamente tu i soldi e soltanto dopo questo passaggio che tu hai venduto ci vai a fare l'acquisto dal tuo distributore che hai intercettato solitamente cosa succede le persone tu per dire hai intercettato un prodotto su Aliexpress ok che è l'e-commerce di Alibaba intercetti un prodotto qui cosa fai lo vai a mettere sul tuo e-commerce quando le persone lo acquistano ok che ti danno i soldi tu cosa fai da qui con questi soldi qua vai su Aliexpress lo compri e Aliexpress si preoccupa di fare il delivery al tuo potenziale cliente il tuo acquirente in questo caso quindi in realtà tu solo dopo che hai preso i soldi vai a fare la consegna ma la consegna tu non praticamente tu prendi i soldi ma non tocchi il prodotto fisicamente ci pensa il tuo distributore grossista a farlo e ovviamente io ti ho detto Aliexpress ma qua potrebbe essere anche un grossista italiano non c'è nessun non c'è nessun vincolo geografico questo cosa ti permette di fare però ti permette di avere un e-commerce in esempio stupido in Italia hai un e-commerce in Italia cosa fai compri in Cina e vai a fare il delivery negli USA ok io uso moltissimo dropshipping faccio tante volte questo tipo di flipping del lead quindi creo il mio e-commerce dall'Italia e vendo in USA in Brasile in Spagna non ci sono limiti per questo chiaramente devi lavorare ovviamente in lingua però come vedi fino adesso ti ho parlato non ti ho mai parlato per dire di Facebook marketing quindi prima di passare a queste cose o a Instagram prima di passare a questo tipo di linguaggio bisogna andare a capire bene qual è la tua idea qual è il tuo prodotto che hai trovato intercettato per andare a soddisfare un desiderio di mercato sotto forma di offerta soluzione prima si fa quel tipo di ragionamento e poi si va a dire ok dove lo distribuisco quindi in realtà abbiamo detto che il dropshipping è il metodo che ti permette di fare l'acquisto solo dopo che hai venduto quindi questo potrebbe essere buono all'inizio quando hai meno soldi chiaramente l'investimento di base ce l'hai ma questo ne parleremo un'altra volta perché ovviamente devi pagarti i tool l'e-commerce e devi fare ovviamente pagare il traffico andiamo al terzo modo di monetizzare una big idea che è l'affiliazione tanto discussa andiamo a fare un po' di chiarezza anche sulle affiliazioni cos'è l'affiliazione l'affiliazione è in sostanza unirsi a un network che vende un prodotto servizio e tu lo vai a vai a intercettare il cliente quindi tu in realtà non compri intercetti il cliente e cosa fai lo mandi tramite un link a comprare dal tuo venditore quindi in realtà tu non tocchi né i soldi né il prodotto ci pensa il network di affiliazione a spedire ma il network di affiliazione soltanto dopo che ha venduto quindi quando ha venduto il venditore cosa farà ti darà una percentuale sulla vendita quindi questo cosa significa che tu non devi investire nulla non devi né comprare né preoccuparti di spedire il prodotto devi solo inserire denaro nel traffico e eventualmente nei tuoi tools quindi questo è il modo diciamo un po' più cheap per iniziare un'affiliazione però è molto comodo cioè il classico esempio di affiliazione è il link di amazon cioè io prendo un link di amazon di un libro per farti esempio lo metto su la mia pagina facebook consigliandolo tutte le vendite che vengono fatte tramite quel link io ho diritto a una percentuale chiaramente noi qua ci andiamo a affidare alla bontà del network di affiliazione ce ne sono tantissimi in italia all'estero tu puoi fare affiliate marketing USA affidandoti a un network americano e cosa puoi decidere di vendere sul territorio vendere dall'altra parte ovviamente con i problemi di lingua anche in questo caso ragazzi però dobbiamo fare attenzione a avere sempre prima di tutto la big idea non è inutile cercare di dire faccio affiliate marketing e mi baso su quello che mi dice il network perché il network ti farà vendere quello che vuole lui tu devi prima andare a scovare qual è il desiderio di mercato quello che rende forte la big idea e poi dopo dici ok guarda l'ho trovato in affiliazione non ho voglia di sbattermi a fare tutto il discorso di comprare spedire eccetera eccetera voglio lavorare in affiliazione in affiliazione si possono fare bei soldi ci sarà un grosso cambiamento nell'affiliate marketing perché comunque spesso era fatto non so se hai presente quei link di vendita un po' a mordi e fuggi ovvero dove tu cercavi di prendere col timer la persona che comprasse subito subito e poi la pagina anonima senza faccia senza niente ora sta cambiando chi farà affiliazioni sarà sempre più una persona che ci mette la faccia per farti un esempio io potrei essere qui in questo momento a consigliare questa penna in questo caso con un link di affiliazione ma ci metto la faccia e poi quando questa penna non la voglio più vendere passerò a quest'altro tipo di oggetto ma sarò sempre io a consigliare ok mettendoci il viso e prendendo anche il rischio perché comunque talvolta in affiliazione vengono sempre rifilate cose ambigue borderline un mezzesole quindi questo sta cambiando facebook non vuole assolutamente che ci sia questo tipo di lavoro per dire se tu vuoi distribuire con facebook e giustamente adesso la nuova normativa pubblicitaria ha fatto sì che questo cambiasse andiamo all'ultimo metodo di distribuzione tenuto ultimo appositamente perché quello più particolare che è Amazon FBA tanto discusso ultimamente in questo caso come funziona tu dopo aver intercettato la tua big idea eccetera vai da un tuo distributore quindi grossista ti trovi un grossista possibilmente ti fai fare un private label quindi ti fai mettere il tuo marchio quindi lo brandizzi spedisci acquisti scusa acquisti il prodotto lo spedisci ad Amazon Amazon ti chiede una fee sul magazzino poi cosa succede lo vai a distribuire sulla piattaforma di Amazon sulla piattaforma di Amazon tu pensi che non ci siano costi in realtà i costi ci sono perché puoi fare anche qua advertising eccetera quindi advertising in questo caso tu cosa fai compri spedisci ad Amazon e Amazon si preoccupa di spedire a sua volta il cliente magari in modalità prime quindi hai questo tipo di vantaggio e in questo caso quindi capisci che il prodotto tu lo acquisti lo fai spedire lo spedisci direttamente ad Amazon e poi da Amazon ti preoccupi di fare questo tipo di lavoro e questo è il quinto modo questi sono i cinque modi ragazzi non esistono praticamente di più tu devi una volta che hai individuato qual è la tua big idea qual è il tuo prodotto qual è la nicchia che vuoi andare a soddisfare benissimo da qui dico ok dove vado a lavorare qual è la piattaforma che meglio si presta al tipo di lavoro che devo fare per esempio potrebbe essere che io mi trovo molto bene a fare private label quindi cosa faccio mi vado a comprare i miei prodotti in Cina piuttosto che da un grossista me li rimarchio ok mi faccio il mio brand che sarà ragazzi sempre la cosa di più che venderà negli anni il brand il brand ficcatevelo in testa è da qui allora poi andrò a distribuire quindi mi creo il mio e-commerce che può essere Shopify piuttosto che qualcos'altro e poi andrò a fare il mio delivery del prodotto una volta che ho trovato il cliente che mi ha pagato quindi mi faccio dare i soldi e vendo questo è il passaggio più semplice che secondo me è il mio preferito io faccio quasi cioè la maggior parte dei miei business è private label la mia quando vendo corsi di formazione sono corsi che vendo io quindi sono corsi di formazione potrei cosa fare però potrei sfruttare un po' di cose per dirti io potrei farmi fare i miei prodotti in private label con la mia piattaforma e metterli io in affiliazione quindi io diventare network di affiliazione quindi trovare delle persone che vogliono vendermelo e io gli vado a dare poi a loro una percentuale quindi questo potrebbe essere un'altra ipotesi comunque il lavoro online come vedi è un lavoro che non ha niente di strano funziona praticamente in questo modo non ci sono soluzioni in più bisogna capire bene come funzionano questi meccanismi per dire ok ragazzi voglio cominciare a fare business online sì un passo indietro è inutile dire voglio fare FBA attenzione fermati questa potrebbe essere una gran cazzata perché magari non hai trovato il prodotto ancora e quindi tu parti dal tassello finale no si parte sempre da lì una volta che hai trovato come andare a creare la tua big idea quindi come andare a soddisfare un problema ok che sarà qui quando hai trovato la soluzione a questo problema sotto forma di offerta allora tac ci vai a dire bene dove vado a distribuire dove vado a monetizzare questo tipo di prodotto servizio come faccio bene questa è una cosa che puoi fare dopo io per dirti facendo in questo modo quando posiziono un prodotto sul mercato decido dopo ok prima faccio la mia ricerca e poi dopo dico ok lo voglio mettere qui lo voglio mettere qua lo voglio mettere in questo posto quindi non andiamo a passare subito dopo e lo so è complicato perché oggi tutti ti dicono fatti il corso di facebook marketing fatti il corso di cazzo in marketing fatti questo fai quell'altro ma alla fine nessuno ti parla di questa cavolo di big idea cioè la big idea è prima trovare un disegno di mercato la ricerca che deve fare una persona che lavora online che vuole fare soldi online e ricercare i desideri di mercato e soddisfarli sotto offerte ok poi la devi lavorare per ovviamente costruire la tua community e il tuo brand ma questo ne parleremo nei prossimi video quindi spero che questa nuova serie ti sia piaciuta che ti sia piaciuto anche il mio modo di fare la super lavagna da formatore che mi ha rotto un po' le palle io preferisco scrivere su questo mio libro delle idee tutto pasticciato io scrivo tutto qua sopra ho deciso di condividerlo con voi quindi ci vediamo al prossimo video se sei interessato ad approfondire la cosa puoi acquistare uno dei miei corsi quindi vai su marcodoria.com puoi acquistare il corso big idea proprio che è il corso che ti insegna a posizionare prodotti e servizi sul mercato scovando trend e desideri di mercato oppure puoi fare i miei corsi di facebook marketing piuttosto che di instagram marketing ma sono fatti in una maniera differente ovvero ti insegnano a creare format per andare a soddisfare sempre il discorso big idea ok perfetto se il video ti è piaciuto metti un like e condividi ci vediamo alla prossima